Bella a tutti i Free Withers, bentornati a questo appuntamento con Spliff Break, la risposta è sì. Sinistra italiana sta lavorando per provare a inserire all'interno del programma elettorale, del programma di governo, il manifesto collettivo. Questo è quello che ci hanno riferito, grandi attivisti che stanno cercando di lavorare su questo, davvero importantissima questa pressione trasversale che si sta cercando di fare su tutti i partiti e Sinistra italiana in queste ore, in questi giorni, lavorerà per provare a inserire, appunto, lavorare all'interno, vedere se gli esponenti sono d'accordo, valutare la situazione e provare a inserire il manifesto collettivo all'interno dell'agenda di governo e quindi del programma elettorale. Sicuramente una mossa importantissima e, insomma, dobbiamo cercare di continuare su questo percorso, continuare a lavorare perché più partiti inseriscano questa proposta, perché è una proposta condivisa, perché è una proposta importante e un avanzamento collettivo per tutta la società e davvero non è divisiva, come molti possono pensare o hanno raccontato in modo erroneo, volutamente. In realtà è una proposta che unisce, perché va a toccare tutti i punti di un argomento spinoso, delicato e va anche a accontentare la parte proibizionista, mettendo dei controlli e delle regole importanti che nessun'altra proposta aveva mai messo, perché erano sempre molto indicative, lasciate molto al caso, invece in questo caso sono molto precise. E allora bisogna cercare di spingere questa situazione in tutti i programmi elettorali, di tutte le agende di governo, di tutti i partiti italiani, perché ricordiamolo poi, questa proposta dovrà arrivare in Parlamento e quindi dovrà essere ridepositata e quindi serve del tramite politico. È importante cercare di insistere, domenica questa spinni nel fianco faranno una diretta con potere al popolo per cercare di valutare anche se loro vorranno inserire questo manifesto collettivo all'interno della loro agenda di governo e quindi del programma elettorale. cerchiamo di continuare a spingere su tutti i fronti, perché solo con patti con la richiesta possiamo arrivare ad un dunque, soprattutto in questo momento pre-elettorale, dove le promesse si sprecano, bisogna lavorare sui contenuti, su qualcosa di irrealizzabile, creando un percorso chiaro e non solo teorico. Oggi alle 15 sarà la diretta di Eumans con Cappato, vedremo se loro anche vorranno inserire nella loro agenda di governo eventuale, se si candideranno o meno alle elezioni, se riusciranno o meno, perché altro problema sono le raccolte firme per le liste, se inseriranno nel manifesto collettivo, se ne parleranno, se lo metteranno al punto focale o se saranno vaghi come al solito, cosa che noi non vogliamo più dei partiti, vogliamo precisione, vogliamo chiarezza nel percorso, questa cosa ci aspettiamo anche da Maggi, di più Europa, che ha diffuso importanti notizie anche sulla coltivazione, ma vogliamo un chiarimento sull'agenda di governo e quindi la direzione del manifesto collettivo deve essere chiara, vogliamo capire bene a fondo le idee di una nuova legge che hanno questi partiti, questi parlamentari che si propongono, questi referenti dei cittadini, questi nostri referenti su questa battaglia che si propongono chiedendoci il voto, vogliamo capire bene cosa vogliono sviluppare, quale legge vogliono portare e noi chiediamo che sia sulla linea del manifesto collettivo, abbiamo diffuso 10 punti chiarissimi con anche 10 vantaggi iperchiari. Bella a tutti i free readers, continuiamo a impegnarci, noi ci vediamo col prossimo aggiornamento domani. Bella a tutti i free readers, ci vediamo nei commenti, fino a libertà! Ciao!